Come si muoveranno i vicentini in un futuro prossimo? A deciderlo sarà il PUMS, uno scioglilingua in apparenza che dietro all'acronimo nasconde il piano urbano per una mobilità sostenibile. Meno traffico pesante in centro, via libera a mezzi elettrici, incremento delle piste ciclabili. Su queste direttrici sarà fondato il testo che dalla conferenza unificata Stato-Regioni ha ottenuto un importante finanziamento di 343 mila euro. Vicenza risulta essere tra le prime dieci città in Italia ad ottenere un finanziamento per andare a redigere il PUMS, un progetto che partirà dal basso coinvolgendo le associazioni di categorie, i portatori di interesse e i cittadini tutti. Un ringraziamento ai tecnici del comune di Vicenza per il lavoro svolto, ci metteremo subito all'opera da gennaio per andare ad individuare il professionista o lo studio che ci permetterà appunto di programmare e pianificare una nuova mobilità per la nostra città. Accanto al PUMS è prevista anche la realizzazione del biciplan. Ottenuti i fondi, il comune è già al lavoro per l'incarico di progettazione.